bella ragazzi bentornati da the kids allora ragazzi oggi per un nuovo video ragazzi non voglio copiarmi di flash ma è un mio youtube preferito ovviamente cosiddetto maschio egettivo siamo vicino pro a zero foro a zero oggi ragazzi mi farò vedere il mio outfit preferito e più costoso iniziamo con questa parte della polo preso nel costo della polo a new york city costata 120 euro quindi siamo già a 120 euro poi questi pantaloni questi pantaloni qua della polo dei jeans della polo presi sempre a new york costati pure questi no questi servono a usare 80 euro quindi siamo già a 200 euro 200 euro per l'outfit poi vediamo questa carpa po presa dalla polo pure questa a new york presa tutta da new york costata sarà costata la pelpa 100 euro si vero 100 euro ce l'ho appena tornato per fare un botto perché il mio profumo si beve roma ragazzi costata 100 euro quindi siamo già a 300 euro con l'outfit adesso partiamo alla polo bella ragazzi rolex rolex aspetta basta qui vado a fuoco vai a fuoco va rolex potete vedere è fuoco cazzo rolex poi qua segnetto della rolex ancora pochi giochi che so che ero ragazzi aspettate aspettate ragazzi devo andare a prendere le scarpe quindi l'anno questo rolo ci costa 20.000 euro ragazzi 20.000 euro dalla rolex quindi siamo a 20.000 23 quanto cazzo siamo? 20.000 euro 300 va poi ci sono queste balance ecco alcuni ragazzi questo è air jordan ve lo fate già vedere nello scorso video costerò 115 euro e siamo a 20.000 20 35 ok ragazzi per questo video è tutto quindi per il video lasciate iscrivervi al canale da richiedi è tutto e anche da rolex è tutto chiude il rolex e non chiude io bella ragazzi ok